un amore che dura da quasi 60 anni e di cui Rita Pavone va a fiedere. Teddy Reno era ed è l'amore della sua vita e lei lo ha saputo fin dal primo anno. Per questo amore si è battuta moltissimo, andando anche contro il padre che assolutamente non approvava la loro relazione e che infatti non ha neanche preso parte alle no. Di questo e molto altro ha parlato a Verissimo, ospite di Syl. Teddy Reno è lo pseudonimo di Ferruccio Mercury Cordi, è un cantante, produttore discografico e attore italiano naturalizzato svizzero. Io gli dico, Ferruccio sono qua. Io gli dico, Ferruccio sono qua. E lui mi risponde, non e ci credo se spegni tutto, c'ha la mania delle luci, mangia come un dannato e ti fa ripetere le cose cento. Questa è l'età, però lo tengo bene, sempre elegantino, e quando usciamo io gli dico sempre, ricordati te sei Teddy. È una storia che dura da 56 anni, tra due mesi. Una vita insieme Io ci credevo, sapevo che quella era la persona giusta e volevo assolutamente lui e sapevo che andava bene. C'erano troppe affinità, modo di pensare, di parlare. Ci piacevano gli sti. Io ci credevo, sapevo che quella era la persona giusta e volevo assolutamente lui e sapevo che andava bene. C'erano troppe affinità, modo di pensare, di parlare. Ci piacevano gli sti. Io ci credevo, sapevo che quella era la persona. Pavone poi spiega che certamente dei momenti no ci sono stati, degli alti e bassi in questi anni ci sono stati anche perché bisogna solo capire che non abbiamo camminato allo stesso livello e accettarlo. Lui è partito prima e uno dopo e poi supera. Se una coppia è intelligente supera gli alti e i bassi e noi devo dire che abbiamo avuto più alti che bassi. All'altare mi ha accompagnato mio zio Gianni, marito di mia zia Gina. Mio papà disse che il matrimonio era una stupidaggine e che non saremmo due. Poi molti anni dopo ci vide che parlavamo e mi disse, mi sa che con voi mi sono sbagliato alla grande. E gli dissi, meglio tardi. Poi venne a Londra quando nacque mio figlio e come si fa? I padri sbagliano. Le madri sbagliano. Mio padre, racconta ancora Pavone, mentre era ancora sposato con mia madre si fidanzò con una donna molto più giovane di lui, con una grande differenza d'età. E mentre lui mi faceva dei predicozzi in realtà lui si trovava con una donna più giovane. Fu un dolore immenso per mia madre, io provai a dirglielo ma lei non lo ha recepito. Io le dissi di non venire conmi in America, ma di rimanere in Italia perché c'era un fratello più piccolo che ha bisogno di te, ma in realtà io avevo sentito una telefonata strana e capì che mio padre ha... Io le dissi di no. Io le dissi di non venire conmi in America, ma di rimanere in Italia perché c'era un fratello più piccolo che ha bisogno di te, ma in realtà io avevo sentito una telefonata strana e capì che mio padre ha... Io le dissi di no. Un figlio non sa mai cosa fare. Pensi che magari finirà, però... Io le dissi di no.